segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ma guarda non sono titoli così è un avuto talmente diciamo tanto non importantissimo perché di città davvero importanti c'erano brescia alcuna vicenza e forse brindisi poi è un voto molto frastagliato quindi lo si può raccontare come si vuole naturalmente poi i giornali hanno anche i loro lettori a me interessava soprattutto parlare ai lettori di sinistra e dargli una notizia vera e cioè che la batosta il pd non l'aveva presa che esiste ancora a sinistra oltre all'unità poi con luciano insomma abbiamo imparato a fare giornalisti insieme quindi più o meno le cose le vediamo nello stesso modo lui ha dato un'altra non un'altra lettura semplicemente ha preso un altro dato che era quello della maggioranza delle città conquistate dal centrodestra mi sembra che sono due letture entrambe legittime dopodiché non si può trarre moltissime elezioni politiche da un voto così piccolo e frastagliato attenzione ecco l'unica cosa su cui non sono d'accordo con luciano è brescia no brescia non è una piccola città brescia una delle città più importanti in italia brescia fa il 3 per cento del pil fa il 3 per cento del pil cioè 200 mila abitanti non è paragonabile a una piccola cittadina è una delle grandissime città italiane hai il doppio degli abitanti di ancona per capirci anche se ancona è capologo quindi il risultato di brescia è molto importante nessuno di questi risultati ci dice davvero cosa sta succedendo mi pare che comunque non c'è stata la spallata adesso ogni oggettivamente salvini ha detto che al ballottaggio ci andava di sicuro non solo non ci è andato ma ha preso una batosta forte a brescia dopodiché le indicazioni che vengono fuori quali sono ma secondo me è importante quella sui cinque stelle perché tu hai fatto vedere il risultato di ivrea ma ivrea la sinistra è talmente forte che con i cinque stelle o senza cinque stelle trionfa infatti il risultato è altissimo e c'è pure un 10 per cento di terzo polo e se aggiungi quello siamo al 60 70 per cento vinceva per forza a brescia il pd ha combattuto da solo ha vinto da solo senza cinque stelle senza neanche le i partiti di sinistra ha vinto da solo contro una roba forte cioè contro alleanza di centro l'alleanza conte qualche tempo fa voleva io avevo capito che sarà candidata a fare il capo della sinistra nel confronto fra pd e conte siamo su 15 a 1 grosso modo i cinque stelle spiegano sempre che loro a livello locale vogliono infatti anch'io dicono che da questo voto si possono trarre grandi indicazioni però le indicazioni che trai è che il centrodestra tiene dopo il successo del 25 settembre ma non sfonda non avanza se si aspettava un'ulteriore avanzata non c'è stata naturalmente la melonia il pd non è morto è vivo e si riprende ha riconquistato dei voti e torno in scena certo una cosa brescia cosa ci rappresenta è una cosa importante cioè c'è il pd a mani nude contro uno schieramento fortissimo e questo avviene praticamente in tutta italia allora devo sentire l'omeo su questo